Siamo arrivati in questa pranzo, poi mi sono arrivati in questa pranzo, e allora mi portava a tutti questi cittadini, mi portava solo una roba che è abbastanza spenderla, e allora noi rimuoviamo, mia madre ci morì, noi a quel pranzo siamo arrivati, noi a quel pranzo ci sono sempre due famiglie alle comuni지고i, tutti i mali ogni outro, tutti battendo i mali siano terminati tra i due fanno in quelio ma dei mali di半o e le mali di 2 anni, quando